Ma è molto semplice, i grillini in realtà non vogliono l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Loro capiscono che se c'è una riforma, se la politica sa cambiare, sa migliorare le cose, manca quel terreno su cui loro si sono basati. Per cui non vogliono risolvere i problemi del Paese, ma alimentare i problemi del Paese per poter creare scontento su cui prendere qualche voto, solo propaganda.